Dallo Sperone al Tacco passando per la terra di Bari per un viaggio tra i sapori della Puglia attraverso la maestria dei migliori chef del territorio. Sfide all'ultimo fornello in programma per Tech Puglia 2014 di scena per tre giorni nel castello di Celi e Messapica su iniziativa del portale no gastronomico e turistico vinoway.com e dell'associazione Vino Ve Italia con l'assessorato alle politiche agricole della regione Puglia. Obiettivo affinare il legame tra buona tavola e buon vino. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere tutte le eccellenze pugliesi alla manifestazione. Quest'anno abbiamo avuto anche la novità di avere tante altre realtà nazionali e questo è un grande orgoglio per noi. Avremo più di 80 cantine, abbiamo anche molti banchi di degustazione, eccellenze della gastronomia. Quattro chef pugliesi per ciascun territorio dal Foggiano al Salento saranno i protagonisti di un contest culinario in cui si misureranno nella creazione di piatti tipici a cui le cantine dovranno abbinare un loro vino affidando l'accoppiamento all'insindacabile giudizio di una giuria di esperti del settore. All'Atere i banchi d'assaggio per conoscere e gustare vini, birri artigianali e prodotti tipici per un inno al gusto che consacra Ceglie, capitale dell'enogastronomia del territorio. Vi aspettiamo tutti per il weekend del gusto e vi aspettiamo l'8, il 9 e il 10 agosto per il Ceglie Food Festival.